Io sono Stefano Baiardi, sono il fondatore di Subgroup. La mia storia con Mistral inizia più che altro come passione personale, poiché la mia azienda è iniziata nel 1994 e in quei tempi Mistral era famosissimo già da qualche anno, per cui iniziando a lavorare in materiali compositi si è presentata l'opportunità di collaborare con questo marchio in questi anni, negli ultimissimi periodi ed è stato un onore per me perché veramente andiamo a congiungere due marchi abbastanza storici. La collaborazione con Mistral è particolarmente interessante perché sposa tutte le nostre altre tecnologie e tutto quello che abbiamo sviluppato con Subfoil, con una capacità di marketing e di divulgazione mondiale che per quanto riguarda Mistral è veramente eccezionale. I'm Oscar von der Wettering. You started working with Subfoil this year and I'm very proud to be working with Subfoil as world leader in advanced hydrofoil systems. The Mistral Subfoil system was developed based on the latest techniques and the most advanced materials, guaranteeing an extremely smooth ride. Combining a carbon mast and two very effective high-grade carbon wings, it's truly lightweight while being extremely strong at the same time. Depending on the size chosen, the foil is suitable for both intermediate and advanced riders. The smoothest ride of your life? Just a few clicks away. Ero. 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 Grazie a tutti.